Rossini, stasera grande prova di Modena, dopo la sconfitta Civitanova, tre giorni, tanti viaggi, tanta stanchezza, eppure siete arrivati qua e 3-0 anche stasera. Sì, siamo contenti perché non era una partita facile qui, soprattutto qui Milano gioca molto bene, hanno qualche defensione perché non hanno un centrale titolare del Sestetto, però comunque riescono a giocare una bella bolla a bolla con dei campioni come Nimi Rappellatiz e Neva Petric, quindi non era affatto scontato, siamo contenti, la partita di Scindanova dispiace, però in un percorso di crescita ci possono soltare qualche fattura al resto, noi dobbiamo pensare a lavorare ed essere equilibrati sia quando si vince che quando si perde, che poi le partite che conteranno arriveranno più avanti.